L'ondata di contagi non ha risparmiato il carcere di Bergamo, sia pur con numeri decisamente meno allarmanti rispetto alle strutture di altre città, ma sufficienti per costringere la direzione a riaprire una sezione dedicata ai detenuti positivi al virus. Ad oggi sono 60 i casi in isolamento, nessuno risulta essere grave, essendo per lo più asintomatici. Si tratta di detenuti ospiti tra la sezione penale e la casa circondariale. Contrariamente non si registrano casi nella sezione femminile, pesantemente colpita durante le festività natalizie, come è precisato da Valentina Lanfranchi, garante dei diritti dei detenuti. La situazione sotto costante monitoraggio non è certamente paragonabile alla primavera 2020, periodo in cui chi si contagiava veniva trasferito per la quarantena e per eventuali cure tra Bollate e San Vittore, oggi in affanno. Essendo Milano al centro di questa ondata e con la crescita di casi anche a Bergamo, è stato così necessario rivedere il meccanismo e si è deciso che i positivi non si spostano. Da qui la conversione della prima sezione in reparto Covid. Grazie alla campagna vaccinale non è stata prevista l'interruzione delle visite, mentre si mantiene allineato ai dati regionali il numero di agenti di polizia penitenziaria assenti causa Covid, la cui percentuale oscilla tra l'8 e il 10%. Da segnalare la protesta con il lancio di oggetti infiammati attraverso le sbarre delle finestre del penitenziario avvenuta nella serata di martedì. Una quindicina di minuti di trambusto che da quanto sia preso sarebbe poi riconducibile, come è precisato dalla direttrice del carcere Teresa Mazzotta, ad una forma di solidarietà nei confronti dell'ex deputata radicale Rita Bernardini in sciopero della fame per protestare sul cronico problema del sovraffollamento. Avrebbe coinvolto una sola sezione i cui detenuti hanno rifiutato il vito. È un tema quello del sovraffollamento che tocca anche Bergamo con i suoi oltre 500 ospiti a fronte di una capienza di 315 posti, tanto che l'estate scorsa l'associazione Antigone l'aveva messa tra le situazioni peggiori al quinto posto in Italia.